Le paure delle persone sono state blandite, sono state incoraggiate. La politica è stata inventata per risolvere le paure delle persone, per emanciparli dalle paure ai cittadini, non per tenerli dentro. Far leva sulle paure della gente per raccogliere consenso elettorale a Littis Max Planck di Lancenigo per raccontare attraverso le pagine del suo libro La storia del muro di Berlino. Ezio Mauro, già direttore e ora editorialista di Repubblica, parla di politica della Lega e delle prossime elezioni regionali. Zaia lo conosco, è sicuramente molto vitale, ha un'energia politica molto forte. Il centro-sinistra porta anche qui quella che è un po' l'incognita di questa fase, un partito che si addossa a una responsabilità nel caso del governo nazionale e però che ha delle difficoltà a dire che cos'è e che cosa vuole. Lo sguardo sull'oggi poi in Aulamagna, lo sguardo sui fatti che 30 anni fa cambiarono l'Europa e il mondo. Partendo dal suo libro i ragazzi potranno conoscere questa storia che non hanno vissuto e potranno capire sia la quotidianità sia la grande storia. Una platea di giovanissimi che non sono esentati, malgrado si tratti di un istituto tecnico, da leggere e formarsi una propria capacità critica. Ho notato anche molto nella mia generazione che le persone tendono molto meno a leggere i libri e stare più davanti al telefono e sui social. Cosa ti ha colpito di questo libro? Mi ha colpito soprattutto il racconto di come effettivamente una parte di storia così importante non venga conosciuta oggi dai ragazzi. Mi ha fatto pensare se anche io avrei avuto il coraggio di fare la stessa cosa. Mi ha fatto pensare se anche io avrei avuto il coraggio di fare la stessa cosa.